Potrebbe slittare a dopo il referendum l'esame della Corte Costituzionale sulla nuova legge elettorale. Un rinvio, spiega il quotidiano Il Messaggero, legato al possibile ed imminente cambio di contesto e alla necessità di esaminare altri ricorsi. Se infatti al referendum costituzionale dovesse vincere il sì, la consulta non potrebbe non tener conto delle modifiche all'assetto costituzionale. In caso di vittoria del no, invece, è molto probabile che il Parlamento si troverà costretto a riscrivere la legge elettorale dal momento che il Senato continuerebbe ad avere i poteri attuali. Un'ipotesi che non dispiace alla consulta che potrebbe così aspettare la Costituzione delle parti ed anche l'invio delle memorie legate al ricorso del Tribunale di Perugia. Tra tempi tecnici e Costituzione delle parti, infatti, la consulta non riuscirebbe a fissare la sua decisione prima della fine dell'anno. E se da un lato la maggioranza festeggia perché un'eventuale bocciatura dell'Italico motiverebbe il no al referendum, dall'altra la minoranza PD non ci sta. Alla festa dell'Unità di Roma, Pieruligi Berzani ha confermato l'intenzione di votare no al referendum. Forse domani mattina voto no, sì, ma sto dicendo anche come si può correggere questa strada. Altro che apertura, ha sostenuto l'ex segretario, non c'è nessuna apertura sulla nuova legge elettorale, piuttosto dicano di aver sbagliato mettendo la fiducia. In ogni caso, Berzani ha chiarito che comunque, sino al referendum, c'è tempo per trattare. Era la legge migliore del mondo, ce l'avrebbero copiata tutti in Europa entro pochi mesi. Oggi scopriamo che quella legge non ha più padri, madri, Renzi è disposto a cambiarla. La verità è che Renzi ha paura, ha paura di perdere il referendum e vuole con questa mossa creare un po' di confusione. Mi dispiace, il no crescerà, sarà molto forte e il no sarà la via maestra per cambiare anche questa pessima legge elettorale. La legge elettorale di Renzi sembrava la migliore del mondo a detta del Premier, in realtà lo stesso Renzi vuole cambiarla. Si era creato un vestito su misura ma il Presidente del Consiglio è ingrassato e quel vestito non gli va più bene. Adesso dobbiamo ragionare per fare una legge democratica che garantisca ai cittadini di poter scegliere e non le leggi per garantire la poltrona di Renzi o del Premier di turno.